Nel racconto Ariadna che ho appena postato di Chekhov potrete trovare secondo me due spunti interessanti di riflessione, uno per quello che riguarda la parità di genere, come la intendeva insomma Chekhov, probabilmente quello era anche il suo punto di vista, o perlomeno era il punto di vista dell'io narrante di quel racconto, raccontato in prima persona, una parità di genere che si raggiungeva più facilmente nella popolazione contadina dove le donne erano abbastanza parificate all'uomo per quello che riguarda il lavoro, quindi il lavoro come strumento anche di parità, di uguali diritti e doveri, di uguale dignità, mentre lui non lo vedeva invece in città dove le donne venivano abituate a cercare più che altro un marito, una dote, a coltivare alcune attività più o meno artistiche, a essere corteggiate, a vedere un po' nel matrimonio invece la realizzazione del loro essere, senza pensare invece a una professione, a un lavoro. Un primo spunto è quello di riflessione sulla parità di genere, sul modo di vedere le donne da parte degli uomini russi in quell'epoca particolare, e siccome possono essere più o meno evolute le cose, se siamo d'accordo su questa concezione, che era anche un modo di vedere la donna non soltanto come un oggetto sessuale o come una madre di figli, ma anche di cercare con essa una comunione spirituale da parte dell'uomo. Un'aspettativa, insomma, da parte anche dei maschi, idealisti, che spesso veniva delusa dopo il matrimonio e che quindi portava a cercare altri rapporti. E' un modo di vedere le donne, soprattutto in città, nella borghesia russa, un modo di vederle come spesso false e inferiori agli uomini. Magari su questo sarà interessante sentire i vostri commenti che immagino, non saranno i vostri giudizi, che immagino non saranno del tutti concordanti. E forse questo, sì, offre spunto, insomma, offre materiale di che dire, di che discutere. L'altro aspetto per cui è interessante, secondo me, questo racconto è perché il personaggio della protagonista femminile ricalca molto bene, ed è molto bravo Chekhov a farlo, in questo, quello che è l'icona della personalità ischerica. La protagonista fondamentalmente è un'isterica. E per capire bene cosa sia l'isteria, io non voglio dirlo io, ma vi rimando con il link qui sotto al discorso, alla conferenza che ne fa Recaicati, richiamando la visione di Lacan, che, secondo me, è una di quelle che servono di più a interpretare questa, diciamo, questa personalità, questo atteggiamento, questa nevrosi, nevrosi che poi si è anche molto modificata nel tempo. Sono cambiate le manifestazioni dell'isteria. Però alcuni tratti rimangono, soprattutto dei tratti della personalità. E allora il personaggio femminile di Ariadna ci si presenta, diciamo, abbastanza antipatico. Abbastanza antipatico perché vediamo una donna che non sa cosa vuole, che ha la continua ricerca, che ha un'attività continuamente seduttrice, che fa colpo, che fa innamorare alcuni uomini, descritti in questo racconto, soprattutto tre sono gli uomini che la guardano e la concupiscono. Il narratore, anche con un aspetto idealistico, insomma, l'ama o si innamora di lei, di un amore prevalentemente ideale, attratto anche dalla sua bellezza. In questo racconto Chekhov mette in luce e proprio gli nomina anche molti tratti appunto della personalità esterica. E questi tratti io ve li accenno, ve li nomino, sempre estrapolati dal racconto. che vale la pena di osservare e poi magari di fare un raffronto con quello, con il discorso che fa Recaicati sull'isteria. In modo che abbiamo anche la dimensione di questo personaggio, di questa tipologia prevalente nelle donne, ma non sono eccezionali neanche gli uomini che abbiano dei tratti esterici, anzi a volte gli uomini sono ancora più antipatici delle donne. Le donne esteriche spesso invece sanno essersi molto, sanno rendersi molto seduttive, molto attraenti e in qualche modo anche simpatiche, soprattutto all'inizio. con l'andare del tempo meno, perché quelle che sono le loro armi, tattiche, strategiche, un po' alla volta durante il rapporto si lograno. Mentre all'inizio sono ben simulate, ben nascoste, dopo si rendono evidenti. Se una persona che le frequenta, è capace di riflettere sul rapporto che instaura con un'isterica, a un certo punto capisce di essere strumentalizzato da questa persona, per lo più insomma, e capisce di trovarsi davanti a una persona che è fondamentalmente falsa, che ha poca sostanza, non per colpa sua, ma proprio per un problema che lei vive, come descriverà bene, su questo vi rimando a Re Calcati. Quali sono questi tratti che emergono nel racconto e che quindi vi invito a rileggere o ad ascoltare tenendo conto di questo? Perché il paradigma che ne viene fuori, ripeto, è abbastanza interessante e completo, insomma, descrive molto bene una personalità che non è facile da cogliere e da descrivere nella sua complessità. Si tratta di una protagonista che è estremamente bella, che ha desideri sfrenati, che anche la riducono alla disperazione, insomma, desidera molte cose, quello che vede lo vuole, insomma, è abituata ad avere quello che vuole e quindi riesce a permettersi di tutto, a fare sì che anche gli altri le rendano possibile di acquisire tutto quello che vuole. Una donna che è consapevole di essere amata, perché? Perché lo provoca e quindi si rende conto che gli altri si inchinano ai suoi piedi. però è una donna che si manifesta fredda e guasta, dice a un certo punto Chekhov. Il diavolo le suzzurra, è come se qualcosa la rendesse non particolarmente buona, non particolarmente, insomma, fosse schiava di certi istinti non particolarmente elevati. Non sapendo per che cosa fosse stata creata, ecco, spesso l'isterica, come dirà Recaicati, non sa cosa vuol dire essere donna. Ha bisogno di vedere nelle altre donne un prototipo, un modello per essere donna, non ha definito il suo carattere di femminilità. Ma questo ve lo dirà molto bene Recaicati nella conferenza che vi linkerò qui sotto. E quindi lavora molto d'immaginario questa Ariadna e si immaginava ricca e illustre. Si immagina e magari cerca anche delle strategie per diventarlo, vorrebbe diventarlo, ma spesso le steriche si muovono anche in maniera non del tutto coerente con gli obiettivi, perché poi non sanno bene quali sono veramente i loro obiettivi, perché non hanno un vero desiderio. Desiderio nel senso che non hanno un daimon che le muove, un qualcosa che devono realizzare per essere più complete e felici. Vogliono tutto ma non sanno cosa vogliono. La mancanza proprio di un desiderio costruttivo, qualcosa che ti permette di realizzare a fondo te stessa anche nel rapporto con un altro, con gli uomini o con un uomo, in questo caso, nel caso della protagonista. Quello non sapendo per che cosa fosse stata creata. E questa cosa, dice a un certo punto Chekhov, raggela gli uomini. L'uomo quando si rende conto con chi ha a che fare, si sente razzelare, vengono meno le sue aspettative, capisce che c'è qualcosa che non funziona. Perché? Perché in realtà, al di là delle sue manifestazioni, il nucleo è freddo, era fredda, dice Chekhov. Si riduce anche attraverso le sue, diciamo, le sue, i suoi desideri, il suo tentativo di acquisire, di comprare, di fare, insomma, questo suo fare la porta anche a sperperare e quindi a realizzare una situazione di povertà, a trovarsi in povertà. Ma qua ha bisogno di nasconderla. E quindi la falsità, cioè c'è sempre un fondo di falsità nell'isterica. non sa mostrarsi perché non sa esattamente quello che è e quindi non sa mostrarsi per come veramente è. Si mostra sempre per come vorrebbe essere, per l'idea, per la costruzione che si è fatta di se stessa. E a volte, come dice, lavora nell'isterica anche il tarlo del pentimento. Vede che le sue manovre sono inconcludenti e quindi poi prova pentimento per quello che è successo per lo Stato in cui poi viene ridotta. Ma ciò nonostante continua a persevera nelle sue modalità di azione quotidiana. Cosa sogna? Sogna un titolo, un titolo nobiliare, di sposare, quindi un partito e lo sfarzo. La ricchezza, l'esibizione, mostrarsi, no? Sono molto, insomma, l'atteggiamento è quello un po' attoriale, no? È quello del protagonista, di chi si esibisce, di chi si mostra, di chi ha tutti quanti ai suoi piedi, che lo applaudono, che lo acclamano. E cercava, nonostante questo, però, l'isterica è una persona fredda rispetto ai sentimenti, l'ha già detto Chekhov. Quindi lei è incapace di amare veramente, ama l'amore, ma non ama l'altra persona, è incapace. ama farsi amare, questo sì, è necessario per lei, perché il suo motivo per vivere è quello di sentirsi amata, e quindi il bisogno del desiderio degli altri, ma lei in realtà non è capace di amare l'altro veramente, e soprattutto quando ha messo in alto le strategie per conquistare l'altro, ha ottenuto quello che vuole, insomma, gli basta saperlo ai suoi piedi e poi se ne può tranquillamente disfare e dedicarsi a conquistare qualcun altro. E quindi cercava di innamorarsi, dice a un certo punto il protagonista, faceva mostra di amarmi, ma in realtà faceva soltanto mostra, e infatti ispirava addosso, ispirava addosso il freddo, sentiva la freddezza, l'inconsistenza, non era l'amore caldo, l'amore che ti, no, fuoco. E provai spavento. Riceve anche delle carezze da Ariadna, ma senza amore. Spesso l'isterica è anche una donna che al di là dell'attrattiva che lei produce su di sé, delle promesse che fa o delle aspettative che crea, poi è una donna frigida, anche sessualmente, insomma, oppure spesso è una donna che si guarda, non riesce a vivere i sentimenti, ma è come se si riguardasse su se stessa, è come se fosse un'attrice, non una persona che agisce, e quindi è anche fredda, e carezza senza amore, ed è una persona che non ha una vera consistenza, quindi è come se fosse un'altra persona. infatti a un certo punto dice il protagonista un uomo deve folleggiare, insomma, bisogna lasciarsi andare alla vita così, insomma, semplicemente mostrandoci senza riflettere sulla vita, senza essere razionali, no, non gli perdona la sennatezza, non gli perdona di essere un uomo concreto, positivo, aderente alla realtà, perché l'isterica non è aderente completamente alla realtà, vede la realtà come vorrebbe che fosse, come se la immagina, e la è protagonista all'interno di questa realtà. E dice ancora all'innamorato, all'io narrante, per fortuna, per aver fortuna bisogna essere risoluti ed audaci, insomma, bisogna rischiare, bisogna essere decisi, bisogna fare. Fantasticherie, ritorno al mondo del fantastico, poi a un certo punto anche qua, queste fantasticherie la portano a fare un viaggio, e lì va a Roma con un amante, neanche tanto con questo ma con un altro uomo, uomo anche meschino, uomo gli fa sperperare un po' tutti i suoi averi e nel momento in cui si trova nel bisogno richiama l'innamorato, lo richiama a Roma e a lui si concede, fa un gioco ambivo, sta con uno, sta con l'altro, si fa vedere con l'altro per creare la mancanza sull'uno e anche questo lo riduce in povertà, diciamo così, nel senso che gli fa ipotecare la casa del padre e poi gli fa fare un'ipoteca sull'ipoteca, quindi lo sfrutta, insomma, gli fa fuori tutti i soldi per fare il tipo di vita che lei desidera, insomma, vuole vivere alla grande, ma pur volendo vivere alla grande raggiunge sì una media borghesia, ma non raggiunge poi quei, diciamo, quei vertici del mondo sociale a cui lei aspira. e a un certo punto lo tiene, no? Lo tiene creando la mancanza, a un certo punto scrive delle lettere a quest'uomo innamorato di lei per farlo venire e gli rimprovera, lei che lo aveva abbandonato, gli rimprovera e gli dice io sono come Ariadna abbandonata, da voi dimenticata, ecco, no, il fatto di negarsi per essere cercata, per essere desiderata, quindi lei desidera il desiderio dell'altro, ma non desidera il possesso dell'altro nel senso il fatto di creare un legame con l'altro, infatti non è capace e nel racconto ci sarà questa incapacità di creare un legame. Finalmente, diciamo, l'innamorato, colui che racconta la sua storia con questa donna e che quindi si fa una certa idea perché è portato un po' anche a generalizzare sui comportamenti delle donne, quello che si diceva all'inizio, no, questo del discorso sulla differenza di genere, insomma, sul parlare delle donne in generale in Russia, quindi lui è portato a vedere le donne così, insomma, no, e alla fine sarà costretto, anzi, sentirà la necessità di liberarsi di questo peso e quindi non appena lei in qualche modo manifesta la voglia di unirsi con un uomo nel senso di avere una sicurezza stabile perché in Russia poi si vuole arrivare al matrimonio, insomma, no, ecco, lui la affiderà volentieri nelle brazze di un altro e ritornerà a fare la sua vita di prima perché in realtà la vita con un'isterica è molto faticosa e da questo punto di vista forse vale la pena appunto di rendersi conto di avere un quadro della personalità dell'isterico perché all'inizio ha una personalità spesso molto affascinante molto che ti cattura perché è ricca espansiva estroversa insomma però poi nel tempo si capiscono i limiti di questa personalità che sono quelli di non avere della mancanza fondamentalmente di una autenticità e questa mancanza di autenticità vuol dire non poter creare un legame serio e duraturo per cui due persone si possono amare e possono avere bisogno l'una dell'altra e possono dare l'uno all'altra perché ognuno è capace di far dono di sé all'altro ma se uno non è capace di far dono di sé all'altro e utilizza soltanto l'altro per soddisfare le proprie necessità diciamo così che sono quelle di essere perché si vive del desiderio dell'altro a questo punto il rapporto di coppia insomma il rapporto con l'isterica tende a non funzionare più allora anche il personaggio in questo racconto innamorato nonostante lei sia bellissima eccetera a un certo punto prova il desiderio di liberarsi e di tornare alla vita di prima con il padre così si chiude anche il racconto ma insomma se il racconto poi ci serve anche ad avere un'illustrazione di certe cose che ci possono che possiamo trovare nella vita nella quotidianità direi che qui si trovano questi due spunti di riflessione uno la rappresentazione molto bella magistrale di una personalità di una donna che ha una personalità isterica e è un po' il porre la questione dell'identità di genere insomma dei rapporti tra i sessi e dell'uguaglianza tra i sessi di come può essere interpretata l'uguaglianza tra i sessi e di come la vedeva e di come vedeva e inquadrava questo problema è un personaggio cecoviano che è vissuto evidentemente alla fine dell'ottocento insomma quindi come era questa discussione in Russia oltre cent'anni fa un buon pomeriggio oltre oltre